ora che sono a posto con le mie mani posso venire a raccontarvi un'altra cosa non so se tutte voi avete sentito per radio la pubblicità dei nostri sieri anti age global che sono praticamente la nostra linea anti age viso di punta la più venduta la più meravigliosa e nello specifico anche quella che uso io in questi giorni proprio a milano ci sono anche dei corner proprio in città vi metto la foto proprio qui sotto nei quali le persone che passeggiano si possono fermare fare dei trattamenti viso ricevere dei consigli gratuiti e provare i nostri prodotti quindi veramente un'occasione da non perdere se siete lì in zona milano in centro troverete questi posticini qui fermatevi perché sono delle coccole imparagonabili motivo per cui oggi io volevo parlarvi proprio dei due sieri che utilizzo io allora io utilizzo la supra essence che è il siero giorno illuminante per il viso questa linea qui è una linea ad azione completa quindi va a lavorare sulle rughe e le rughette ma va anche a lavorare sulla luminosità naturale della pelle quindi fa riuscire la pelle luminosa la pelle risulta più illuminata più chiara più bella più sana le rughe sono attenuate e viene anche rimpolpata ma cos'è che funziona ancora più tantissimo in più rispetto al siero giorno il siero da notte innanzitutto faccio una specifica il siero non sostituisce la crema va messo prima e serve a potenziare il trattamento successivo quindi la mattina va messo il siero giorno seguito dalla crema da giorno e la sera va messo il siero notte seguito dalla crema da notte questo siero qui anti age global come vedete è un bifasico va miscelato bene prima di utilizzarlo quando diventa così opaco significa che è ben miscelato ne bastano poche gocce sulla mano lo fate scaldare un po e il siero non va massaggiato va tamponato sul viso la cosa favolosa è che durante la notte avviene la rigenerazione cellulare essendo la pelle a riposo permette al siero di lavorare senza essere disturbato quindi durante la notte il siero lavora tantissimo perché è autonomo su tutto il nostro viso e sul nostro collo quindi il mio consiglio oggi è visto che c'è anche la promozione sul nostro catalogo e li trovate in copertina questi due favolosi prodotti direi di approfittarne perché con l'acquisto della crema da giorno avrete il siero giorno scontato del 40 e acquistando la crema notte avrete il siero notte scontato del 40 vi dirò di più se voi riuscite ad acquistarvi la vostra routine completa anche solo giorno o anche solo notte riesco a farvi un 10 per cento di sconto arriva tutto a casa vostra con corriere bartolini a zero spese di spedizione e trovate nel pacco anche un gommage in regalo di una delle profumazioni inedite del nostro natale quindi vi lascio il link qui in modo che possiate anche eventualmente acquistare in autonomia direttamente dal nostro sito altrimenti scrivetemi in risposta a questa storia o su whatsapp vi lascio sempre il numero qui e l'ordine ve lo inserisco io senza nessun problema mi raccomando l'autunno è la stagione perfetta per iniziare ad utilizzare il siero